Le trovi ovunque, oltre che nelle farmacie o dai tabaccai, loro collocazione naturale, sul ciglio della strada, in mezzo ai parchi o sui marciapiedi, sono le mascherine monouso dall'inconfondibile colore azzurro. Basta fare un giro per Fano, occhi a terra per scorgerle, senza neanche sforzarsi di andare in chissà quale angolo sperduto e nascosto della città. Sono lì, in ogni zona o quartiere, da via Pertini a via Canale Albani, vicino la scuola Nuti, a ridosso di Corso Matteotti o lungo le Mura Romane. In piazzale Italia, lì poi il suo educato proprietario l'ha buttata a terra a meno di un metro dal cestino dei rifiuti, a grande sfregio di tutti. Sono lasciate lì, buttate semplicemente a terra dopo aver fatto il loro compito, in un supermercato o in un posto affollato, oppure al termine di una passeggiata in zone periferiche. Testimonianza indelebile di incivile senso ecologista di chi, fino a pochi minuti fa, l'ha portata in viso per proteggersi lui dal virus, mentre l'ambiente e la comunità e la città intera non riescono invece a difendersi dall'ignoranza di chi le ha calzate pochi attimi prima. Troppo fastidioso portassi dietro un sacchetto di plastica e metterla al suo interno e buttarla nell'idinferenziata una volta tornati a casa, in un sacchetto di plastica resistente o in un paio di sacchetti sovrapposti per evitare che si disperdano poi nell'ambiente. Anche l'associazione Puliamo Fano ha raccolto diverse testimonianze a riguardo con guanti monouso che danzano nell'aria in una ventosa serata e poi raccolte dai volontari uno per uno. Le associazioni ambientaliste stanno lanciando a questo riguardo un vero allarme. Con l'inizio della fase 2 la quantità di questi rifiuti sia destinata ad aumentare causando un impatto ambientale terribile oltre che un danno sanitario, sì perché potenzialmente potrebbero essere contaminate e quindi veicolare il virus che con tanta fatica e sacrificio stiamo sconfingendo. Quello che non riusciamo a sconfiggere invece è l'ignoranza e la maleducazione di certe persone.